Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati, buon martedì, grazie ad Acorà per la linea e bentornati ovviamente a Mi Manda Rai 3. Bentornati in diretta dallo studio 10 del centro di produzione Rai di Saxarubra. Allora, era stato annunciato, finalmente c'è l'accordo, è stato siglato nei giorni scorsi. A partire da oggi, all'interno del perimetro della regione Lazio, sarà possibile per le farmacie che hanno dato la loro disponibilità vaccinare direttamente coloro che si prenotano con il vaccino Johnson & Johnson. Ed ovviamente è un tassello importante, un tassello importantissimo per quello che riguarda anche l'accelerazione di questa campagna vaccinale che era cominciata un po' a rilento ma che sta cercando di recuperare in qualche modo. Allora, cerchiamo di capire, questa vaccinazione in farmacia che parte dal Lazio sarà possibile anche in altre regioni? Chi ne ha diritto? Come si fa a prenotare? Come funziona l'accesso al servizio? Ovviamente cerchiamo di dare un po' di risposte anche con l'aiuto dei nostri ospiti. Ti ringrazio per averci raggiunto in studio Roberto Topia, segretario nazionale di Federpharma. Buongiorno, ben ritrovato. E in collegamento dalla sede RAI di Milano dovremmo avere Fabrizio Pregliasco, virologo Università degli Studi di Milano. Buongiorno, professor Pregliasco. Buongiorno, professore. Ma gli ospiti non finiscono qui? Non finiscono qui. Allora, abbiamo pensato, per prima cosa, diamo un'occhiata proprio alle farmacie, proprio a chi da oggi parte con un passaggio di questa campagna vaccinale che effettivamente potrebbe, come si dice da queste parti, cambiare colore al cavallo. Il nostro Danilo Fumiente dovrebbe essere collegato, credo dalla capitale, proprio con una delle farmacie dove da stamattina verrà somministrato il vaccino. Buongiorno, Danilo. Buongiorno a te. Allora, siamo pronti alle nostre spalle? Ci sono alcune delle persone che verranno vaccinate? Diciamo che questa è una giornata importante perché si dà una svolta, un segnale importante per accelerare questo momento di vaccinazione legato alle farmacie. Dottor Greco, siete pronti? Avete lavorato in questi giorni per essere pronti? Com'è stato il passaggio? Come siete arrivati qui? E quante persone si sono soprattutto prontate? C'è una bella richiesta? La richiesta è stata veramente incredibile da parte dei cittadini e nelle primissime ore, nelle prime tre ore, si sono prenotati nella Regione Lazio più di 15.000 cittadini per le vaccinazioni in farmacia. Penso che sia un grande attestato di fiducia nei confronti dei farmacisti di cui siamo molto felici e orgogliosi. È un po' un legame quasi tra paziente e ovviamente farmacia perché comunque fa parte del quartiere quindi probabilmente anche un po' l'effetto tranquillità, sicurezza, sentirsi un po' accoccolati. Questo può essere un modo per aver spinto le persone ad accettare di venire in farmacia? Penso che questo sia un fattore determinante per la vaccinazione. Spesso il farmacista è un amico, è un confidente, è vicino a casa piuttosto che all'ufficio. È bello vedere anche quanto siete giovani, devo dire che fa un effetto meraviglioso vedere quanto siete giovani perché è un bel messaggio davvero. Allora Danilo, come vi siete organizzati? L'anamnesi, chi la fa? Il farmacista stesso quando la gente arriva lì per la prenotazione? Perché ripetiamo, per adesso si può fare solo Johnson & Johnson se non sbaglio? Esattamente, sia per una questione di praticità e anche per motivi legati alla conservazione del vaccino. In farmacia si farà solo Johnson & Johnson. Quanti ve ne sono arrivati, dottor Greco? Ci sentite? Allora, sì la sentiamo, la sentiamo. Nelle prime settimane ne sono arrivati questa settimana 25 anche nella prossima. Poi a seguire si andrà a 50 vaccini a settimana a farmacia per poi, chissà, più avanti, in base alla disponibilità, arrivare anche a 100 vaccinazioni a farmacia a settimana. Che è un dato veramente importante a mio avviso. Lidia, ci diceva il dottore che loro sono attrezzati per qualsiasi eventualità naturalmente. Assolutamente. Abbiamo fatto un corso sia pratico, un corso teorico, siamo pronti a gestire qualsiasi evenienza. Ricordando comunque ai cittadini che la vaccinazione è assolutamente un atto medico sicuro, ha pochissimi effetti collaterali, lievi nella maggior parte dei casi e che in ogni caso sappiamo gestire. Quindi invitiamo tutti quanti a venirsi a vaccinare in farmacia da oggi. Sì, perché stanno ascoltando l'appello. Grazie dottor Greco. Danilo, potresti sentire qualcuno che magari è in fila? Sì, assolutamente. Quanto ha atteso questa vaccinazione? Ce li abbiamo qui, ce li abbiamo qui. Uno dei pazienti che questa mattina effettuerà il vaccino. Allora, per lei ovviamente è un momento importante. Come mai ha scelto la farmacia? Guardi, io ho aspettato tanto per farmi questo vaccino, perché anche per motivi di lavoro, che lavoro fuori Roma e tutto quanto. Poi mi è capitata l'occasione della farmacia, mi sono collegato con Compiute e ho trovato la farmacia proprio di fronte, poi già la conosco perché è una farmacia che ci compra medicinari, altre cose, mi dà anche sicurezza. Quindi diciamo stare vicino a casa forse la rasserena anche un po' di più, no? Sì, anche la rasserena un pochettino, sì. Allora Danilo, torniamo fra pochissimo da voi. Torniamo fra pochissimo da voi. Nel frattempo lo chiedo al professor Tobia, al dottor Tobia, mi perdoni, questo è il mio tipico tratto. Anzi, ho ricordato il cognome, questo è già un evento, mi creda, mi creda. L'ha appena spiegato il signore, ma rispieghiamolo bene. Per chi oggi, apprendendo della possibilità nella regione Lazio di vaccinarsi in farmacia, volesse prenotarsi, qual è l'iter? Nella regione Lazio l'iter è dettato dalla piattaforma che la regione Lazio ha messo a disposizione dei cittadini, che è Salute Lazio, che dà la possibilità di prenotarsi presso le farmacie. C'è un problema evidente, il numero dei vaccini. Un problema che sicuramente non è nostra responsabilità, ma siamo pronti, qualora dovessero arrivare le dosi che tutti ospichiamo, non soltanto nella regione Lazio, ma anche nel resto d'Italia, perché tante sono le regioni nelle quali ormai siamo pronti a vaccinare. Ha cominciato la Liguria, con un accordo ancora prima dell'accordo quadro, antecedente all'accordo quadro che abbiamo stipulato con il governo e con le regioni. Ha continuato la Val d'Aosta, oggi arriva il Lazio, ma tante altre sono pronte ad arrivare. Se arriveranno i vaccini, le farmacie sono pronte a vaccinare e lo saranno non soltanto con Johnson & Johnson, ma anche con altri vaccini che dovessero essere messi a disposizione delle nostre strutture e del territorio. Ecco, non bastano a volte gli annunci mediatici, è necessario, come è avvenuto un po' a Napoli in questo periodo, che arrivino i vaccini, perché senza i vaccini purtroppo non possiamo vaccinare. Però siamo fiduciosi sul fatto che certamente la struttura commissariale ci metterà a disposizione, sicuramente. Allora proviamo a sentire, professor Pregliasco, abbiamo sentito il problema è la solita disponibilità dei vaccini, abbiamo sentito in quella farmacia 25 al giorno, prevedono i 100 al giorno. Una proiezione, in base ai vaccini che arriveranno, è stata fatta su come il vaccino in farmacia accelererà la campagna vaccinale? Sicuramente, già solo le interviste alle persone che erano lì davanti in attesa evidenziano l'opportunità e la necessità di differenziare i luoghi. Gli hub vanno benissimo per il lavoro grosso, una catena di montaggio per arrivare massivamente, ma dobbiamo riuscire a essere i più pervasivi possibili e proattivi, proprio perché è una quota parte anche di anziani che dovrebbero, devono vaccinarsi, perché per loro il Covid non è uno scherzo, non lo hanno ancora fatto. Qualcuno, temo, sarà qualche novax irriducibile, ma molti potranno essere convinti proprio dalla vicinanza in farmacia, dal medico di famiglia, dalle strutture che in qualche modo arrivano a casa, dove sono ormai organizzate. Allora, diciamolo chiaramente, professore, a volte doversi prenotare, fare file lunghe, può sembrare quasi un deterrente, non è probabilmente questo il caso, però insomma la farmacia risolve anche questo problema. Quindi, ben venga, a questo proposito, vi leggiamo subito un messaggio che ci è arrivato via WhatsApp, ho 38 anni, vi scrivo da Mondello, in provincia di Palermo, tra quanto sarà possibile anche per noi prenotare la vaccinazione in farmacia? Dottor Tobia, viva il Lazio in questo caso, ma gli altri? Da pavermitano devo dire che l'accordo quadro è stato, è in fase di definizione anche in Sicilia, quindi confido nel fatto che entro una ventina di giorni al massimo, anche nelle farmacie siciliane, a Mondello in particolar modo tenuto conto della domanda del nostro interlocutore, sicuramente sarà possibile effettuare la vaccinazione. Quindi aspettiamo, come del resto, nelle altre regioni d'Italia, dove gli accordi sono stati definiti, è questione di tempo e ci auguriamo che i tempi siano veramente ristretti. Professore, il Ministro Speranza in questi giorni ha parlato addirittura della possibilità della somministrazione di una terza dose. C'è del vero a una sua razio? È probabile, nel senso che, come accennavamo, anche arrivando, come sperabile, a quel 70-80% di protezione degli adulti, il virus rimarrà comunque presente, diventerà endemico e quindi darà meno fastidio, soprattutto perché non farà, vi asso la vaccinazione, i guai più grossi. Però dovremo convivere con questo virus e bisognerà rinforzare la vaccinazione. E penso che appunto, sta a stabilire ancora quando, si dovranno fare delle dosi di richiamo, un po' come per la strategia dell'influenza, quindi per i soggetti più a rischio, per i soggetti più esposti. E quindi questo virus starà ancora in mezzo ai piedi per qualche anno. E quindi sarà importante dosi di richiamo, una terza dose o dosi successive. E poi già parliamo anche della vaccinazione anti-influenzale, che dovrà essere anche qui quest'anno comunque tenuta in considerazione con grande attenzione. Allora, dottor Tobia, visto che abbiamo visto questo quadro che ci accompagnerà per i prossimi anni, dovremo farci un po' l'abitudine con questi richiami, oltre che alle vaccinazioni per l'influenza normale. Le farmacie, visto questo avvio, potrebbero avere un ruolo importantissimo in questa campagna che diventerà un po' cronica, diciamo così. Assolutamente sì, le farmacie sono pronte ad adeguarsi a quelle che saranno le necessità del Paese, con eventuali richiami che purtroppo le varianti ci costingeranno a fare nei prossimi anni. La vaccinazione anti-influenzale è anche uno degli aspetti sui quali siamo pronti a vaccinare. Un po' per quello che è la capitalità del sistema, un po' per quel rapporto di fiducia che esiste tra il cittadino, in un dialogo continuo tra il cittadino e il farmacista. La farmacia è sicuramente il luogo deputato più indicato, insieme al territorio e quindi al medico medicina generale per seguire il cittadino, per seguire i nostri pazienti nell'iter vaccinale nei prossimi anni. Esiste però un problema, che è quello a cui faceva riferimento il professor Perigliasco prima, di questa fascia di ultra 65 anni che non sono intercettabili attraverso i normali canali. E nei quali la farmacia sicuramente, con i quali la farmacia può dare veramente un contributo, andandola a intercettare, che rappresenta quella fascia di persone che magari sole non riescono ad essere accompagnate dal lab vaccinale, non riescono ad andare al medico medicina generale, ma trovano la farmacia sotto casa pronta per la vaccinazione, fermo restando che esiste purtroppo una fascia percentuale, non purtroppo di basse percentuali, ma probabilmente intorno al 15%, che continua a sostenere l'inutilità del vaccino. Vacciniamoci, perché questo è il compito ed è il dovere di tutti noi, perché in questa maniera daremo un senso a un'operazione che tutela noi stessi, tutela i nostri familiari, i nostri cari e tutela il sistema sanitario nazionale. Assolutamente, grazie dottor Tobia, però prima di chiudere, intanto saluto anche il professor Pregliasco, facciamo un ultimo collegamento con Danilo Fiumiento, che è davanti alla farmacia, se non sbaglio stanno vaccinando, quindi rendiamo l'appello visibile sostanzialmente. Assolutamente sì, e devo sottolineare una cosa, l'aria è veramente distesa, vedo sorrisi, stanno in attesa in questo momento i pazienti che hanno fatto la prima già dose, deve passare, come sappiamo, un quarto d'ora, però dottore, lo dico a lei, un'aria veramente distesa, le persone si sentono veramente tranquille e coccolate in questa situazione? Beh, questo chiaramente ci fa molto piacere, normale, insomma, questo ambiente per la farmacia, non era scontato oggi, a maggior ragione siamo molto felici, vuol dire che i clienti, i pazienti si sentono sicuri perché riconoscono in noi un operatore sanitario, una figura estremamente affidabile, questo ci fa sicuramente molto piacere. Perfetto, dottor Tobia, buon lavoro, buon lavoro, avete una giornata piena, grazie a voi, grazie a Danilo Fiumiento, grazie ai nostri ospiti.